Il caos tamponi e la difficoltà di accedere al servizio dell'USCA per ottenere un molecolare nella città di Agropoli sta diventando pesante per i tanti casi da controllare. Nella giornata di sabato diversi genitori hanno dovuto attendere una fila chilometrica presso l'ospedale civile in attesa del proprio turno, più di un'ora e mezza di attesa prima di arrivare a destinazione e una volta giunto il loro turno si sono ritrovati ad effettuare un semplice test antigenico ai propri figli. Non è possibile che il servizio sanitario territoriale o chi di competenza non ci abbiano avvisati di questa situazione. Attendere tutto questo tempo per un antigenico quando potevamo andare in farmacia e risolvere il problema in poco tempo è gratuitamente vista l'ultima circolare di figliuolo. Non è accettabile se a fare la fila sono anche famiglie con bambini piccoli e lavoratori, spiega una cittadina amareggiata. Anche il modo del personale sanitario di approcciare verso le nostre richieste di spiegazioni non è dei migliori. Regna ormai il nervosismo e la poca umiltà nei confronti dell'altro. È questa la fotografia che presenta una scena sempre più difficile da accettare e soprattutto non risolvibile in breve tempo. Durante la fase più critica dell'emergenza Covid, il laboratorio di analisi dell'ospedale civile di Agropoli, diretto dal dottore Marcello Ametrano, è stato uno dei più virtuosi, ma ora questa attività fondamentale per il contrasto al virus rischia di subire una brusca frenata. Negli ultimi tempi diversi cittadini stanno lamentando i ritardi dell'USCA nel comunicare l'esito dei test di avvenuta guarigione o di riscontro della positività. C'è chi è chiuso in casa, in isolamento, in attesa di una risposta. Nel calderone delle critiche ci sono finiti tutti, dall'amministrazione comunale al personale dell'ospedale. Già 20 giorni fa si cominciavano a verificare i primi disagi e diversi cittadini lo avevano fatto presente anche all'amministrazione comunale, ma senza un esito positivo. La questione è ben nota anche ai vertici dell'ASL, poiché il responsabile dell'UOS di patologia clinica dell'ospedale di Agropoli, Marcello Ametrano, da alcune settimane sta segnalando la carenza di tamponi e reagenti, nonostante la richiesta di esami sia nuovamente aumentata. La prima nota è stata inviata ai vertici dell'ASL ad inizio gennaio. Nella missiva si segnalava come il laboratorio agropolese era chiamato ad analizzare quotidianamente 1500 tamponi, 500 dei quali provenienti dalle USCA di Battipaglia e Salerno. La presenza di un solo macchinario, la carenza di personale e kit determina però non pochi problemi, di qui l'avvertimento che presso il laboratorio di Agropoli sarebbero stati analizzati non più di 250 tamponi al giorno provenienti dal DEA di Vallo, Agropoli e non oltre di 650 provenienti dalle USCA di Agropoli, Vallo della Lucania, Capaccio Pestum e Trentinara. Non solo nella missiva si informava che non potevano essere accettati tamponi provenienti da altri distretti. La situazione da allora non è cambiata e così il dottore Ametrano in questa settimana ha dovuto inviare una seconda nota nella quale ha comunicato un'ulteriore drastica riduzione dei tamponi esaminabili quotidianamente, 25 per l'ospedale di Vallo e altrettanti per quello di Agropoli, 70 per ciascuna USCA di Agropoli, Vallo della Lucania e Capaccio Pestum, 30 per Trentinara. Di qui un nuovo appello all'acquisto di kit dedicati a processare i tamponi che si spera non cada nel vuoto. In questo momento c'è un blocco di tamponi e reagenti, una vera e propria emergenza. Oggi si è in grado di analizzare massimo 70 tamponi al giorno, precisa Ametrano. Insomma una situazione che purtroppo è simile ad altre città d'Italia ma che non sarà semplice e immediata da risolvere intanto a pagarne le conseguenze. Sono come sempre le famiglie che devono sobbarcarsi di una spesa in più per ottenere un risultato immediato e abbattere soprattutto i tempi di attesa.